Bella a tutti ragazzi qui è GTA Pro e in questo nuovo video Sono qui ritornato oggi con un nuovo glitch su come fare soldi infiniti in GTA Online Con l'aggiornamento Import ed Export Prima di cominciare però vi invito semplicemente a mettere un pollice in su a questo video per supportarmi E' veramente molto importante quindi superiamo i 1000 like per questo glitch Inoltre iscrivetevi per non perdervi i prossimi video Detto questo iniziamo subito con il video I requisiti per fare questo glitch sono avere un amico, avere un ufficio CEO con un garage e un'officina Quindi se avete questi requisiti potete fare questo glitch La prima cosa da fare è andare in GTA Online in una sessione solo ad invito Una volta fatto ciò dovrete invitare il vostro amico Una volta fatto ciò dovremo riempire il nostro garage pieno di LG E dopodiché dovremo prenderne una e dovremo modificarla più che possiamo Ovviamente ragazzi più la modifichiamo e più soldi faremo alla fine Una volta fatto ciò dovremo mettere la macchina modificata in questo punto preciso Ovvero al primo posto e dopodiché dovremo salire nella LG che si trova al quarto posto Il nostro amico ragazzi dovrà salire in macchina con noi e dovrà fare un passaggio molto importante Quando usciremo praticamente prima di entrare in garage il nostro amico dovrà premere frecce in basso E dovrà selezionare un personaggio della storia Una volta fatto ciò il vostro amico praticamente si ritroverà in questa schermata Bene a questo punto ragazzi il vostro amico non dovrà fare assolutamente nient'altro Infatti dovrà rimanere in questa schermata finché noi non duplicheremo l'intero garage Quindi il vostro amico non dovrà premere assolutamente niente ma dovrà rimanere in questa schermata Intanto noi entriamo in garage una volta entrati in garage noterete che il vostro amico rimarrà all'interno del veicolo Infatti il vostro amico non verrà buttato fuori Quindi a questo punto andiamo nel cerchio blu per la gestione veicoli E spostiamo la macchina dove sta all'interno il nostro amico O meglio la macchina che si trova al quarto posto con la macchina che si trova al quinto posto A questo punto ragazzi il nostro amico sarà senza veicolo e buggato per terra Dovremo semplicemente aspettare qualche secondo e spawnerà di nuovo la macchina A questo punto ragazzi dovremo iniziare a duplicare i veicoli e dovremo essere abbastanza veloci Innanzitutto ragazzi andiamo nella macchina quella modificata che si trova al primo posto E apriamo la porta praticamente dalla parte dove guidiamo Quindi apriamo la porta dopodiché andiamo nel cerchio blu per la gestione veicoli Però ragazzi dovete fare una cosa molto importante Praticamente ragazzi non dovete andare normalmente nel cerchio ma dovete correre nel cerchio E mentre correte premete velocemente il tasto freccia destra per aprire appunto la gestione veicoli Per capire se avete fatto bene questo passaggio dovete vedere il vostro personaggio che si trova vicino alla macchina modificata Quindi correte velocemente verso il cerchio blu ma intanto ragazzi dovete cercare di andare verso la macchina modificata Se avete eseguito bene questo passaggio praticamente vi ritroverete vicino alla macchina con appunto anche il menu dei veicoli aperto A questo punto ragazzi spostiamo la macchina dove sta il nostro amico o meglio quella al quarto posto con la macchina che sta al terzo posto E a questo punto la macchina diventerà invisibile e noi ragazzi andiamo subito a spostare la macchina che sta al secondo posto con la macchina che sta al primo posto Quando farete questo passaggio praticamente non succederà assolutamente niente dovete velocemente chiudere il menu dei veicoli Appena chiudete il menu dei veicoli dovete correre velocemente verso la macchina modificata e salire velocemente al suo interno Appena salirete dovete premere velocemente l'acceleratore e dovrete premere anche freccia destra per entrare nell'officina Una volta entrati nell'officina dovremo semplicemente modificare l'armatura del veicolo quindi velocemente modifichiamo l'armatura e aspettiamo qualche secondo Dopo qualche secondo la macchina sparirà magicamente e noi a questo punto avremo duplicato il nostro veicolo Ci basterà semplicemente ritornare nel nostro garage e ci ritroveremo due macchine completamente uguali A questo punto ragazzi andiamo nel cerchio blu e spostiamo la macchina modificata al secondo posto con una LG che si trova in fondo Perché appunto per duplicare i veicoli dovremo utilizzare sempre i quattro posti iniziali quindi spostiamo la macchina dal secondo posto al quinto posto A questo punto ci basterà semplicemente di fare la stessa cosa quindi corriamo verso il cerchio blu Premiamo velocemente freccia destra spostiamo di nuovo la macchina dal quarto posto al terzo posto La macchina sparirà poi dopodiché spostiamo la macchina del secondo posto al primo posto Non succederà niente corriamo nella macchina modificata Acceleriamo e premiamo velocemente freccia destra e ci ritroveremo di nuovo nell'officina A questo punto ci basterà semplicemente modificare l'armatura Aspettare qualche secondo e la macchina sparirà nuovamente e avremo duplicato un'altra volta la macchina Quindi ragazzi è veramente un glitch molto molto semplice E facendo così possiamo duplicare l'intero garage in pochissimo tempo Infatti in 10 minuti riuscirete a duplicare un intero garage e fare veramente moltissimi soldi Una volta che avete finito di duplicare i veicoli il vostro amico potrà anche uscire da quella schermata Quindi non vi servirà più Ora vi basterà semplicemente prendere i veicoli uno ad uno e andare a venderli tutti quanti allo Santos Custom E quindi niente ragazzi questo video finisce qui Spero che questo video vi sia piaciuto se è così vi invito a mettere pollice in su a questo video per supportarmi Superiamo i 1000 like anche per questo fantastico glitch Iscrivetevi per non perdervi i prossimi video Inoltre se vi servono account moddati vi invito a passare nella pagina Facebook di Modding Store Detto questo ragazzi noi ci vediamo in un prossimo video Bella Ciao